E' successo qualcosa di incantevole, è nato e noi diamo il nostro benvenuto, il nostro buon Natale a padre Ernesto della Corte. Buon Natale a tutti quanti voi, ben ritrovati. Ti vediamo con un libro tra le mani. Eh sì, ho il testo in mano di Luca, i versetti del capitolo 2 che ci ricordano come Luca questa notte ci abbia detto e ci continua a dire quello che è successo quel giorno, in quei giorni uscì un decreto di Cesare Augusto per censire l'intero mondo abitato. Questo primo censimento fu fatto quando Quilinio era governatore della Siria e tutti andavano a farsi censire ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe che era della città di Davide sale a Bettalegna perché lui apparteneva a quella famiglia. E' il testo meraviglioso che noi ogni Natale vogliamo continuamente meditare. Io direi che oggi dobbiamo fare la verità sul Natale, diciamo la verità sul Natale perché Luca che scrive con queste precisazioni iniziali vuole metterci davvero davanti una verità molto forte e cioè al di là di quale è stato l'anno preciso, molto probabilmente Gesù è nato qualche anno prima, il 6, il 7 rispetto all'anno 0, ma in realtà lo scopo di Luca è di farci capire che tutti i poteri mondiali in realtà sono al servizio del progetto di Dio, per cui i potenti del mondo credono di poter avere la situazione tra le mani, ma in realtà è il Signore che fa tutto, anzi usa pure tutto questo. perché Giuseppe deve salire a Betlemme? E' chiaro che questo censimento porta che ogni famiglia vada a dichiararsi là dove vive, ma Giuseppe vive a Nazareth, quindi avrebbe dovuto farsi censire a Nazareth. Come mai è salito da Nazareth, va verso Betlemme, attraversa metà di quella grande striscia che chiamiamo Terra Santa? Evidentemente perché lui è di Betlemme e quindi non era nella sua città. E come mai si trova a Nazareth? Perché si è trasferito? Evidentemente c'è qualcosa sotto che possiamo capire. Luca ci avvisa che Giuseppe è della casa di Davide, ora Betlemme è esattamente il luogo dove vivevano le persone della casata di Davide. Ma era una città, un piccolo borgo, non più di 200 persone, 10-15 famiglie, però molto in rivolta continua contro Erode, contro i Romani. Evidentemente Giuseppe era andato via da Betlemme. Lui apparteneva a questo piccolo borgo, ma se n'era salito a Nazareth dove ha trovato lavoro e anche serenità, perché la situazione di Betlemme era molto vivace, era davvero non tranquille. Quindi è interessante che Giuseppe abbia lasciato la sua origine, Betlemme, per recarsi in un lontano, in un borgo piccolino, anche Nazareth, per dare serenità alla propria famiglia. Quindi Giuseppe risale e rientra a Betlemme perché deve risultare lì, ed è lì che deve farsi registrare. Notate che mentre si trovano in quel luogo, dice Luca al versetto 6, si compiono i giorni del parto per Maria e diede alla luce il suo figlio primogenito, ma ogni bambino che nasce è il primo, è sempre il primogenito, non è detto che poi l'abbia avuto dopo. Che cosa fa? Maria lo avvolge in fasce, lo depone nella grippia, nella mangiatoia, che in latino si chiama presepe, ecco perché lo chiamiamo presepe, la mangiatoia, perché non c'era posto per loro. Le traduzioni dicono nell'albergo, ma raccontiamoci alcune cose, perché tante volte sulla verità del Natale abbiamo detto cose molto fantasiose. Pensate, un piccolo borgo con 10-15 famiglie. Noi pensiamo con la nostra mentalità moderna di vedere delle strutture alberghiere in un paese montanaro di quasi 200 persone, non di più. Evidentemente no, quella parola greca che Luca ci dà, kataliuma, indica la sala da pranzo, l'alloggio, il soggiorno. Tra l'altro troviamo lo stesso vocabolo quando Gesù farà la cena. Kataliuma, l'alloggio, la stanza che noi chiamiamo da pranzo, il soggiorno. Ecco perché non trovano posto. Siamo noi che abbiamo inventato tutta questa sorta di fantasia che non c'era posto, erano state rifiutati. Luca racconta semplicemente che non c'era posto nel soggiorno, là dove si mangia, ma hanno trovato posto in un altro luogo, perché le case erano fatte nelle grotte e nelle grotte c'erano degli affratti dove si poteva dormire, dove c'era anche la stalla con gli animali. Poi davanti alla grotta si costruivano tre grandi pareti in modo da fare il soggiorno, cioè la stanza dove di giorno si poteva rimanere, si poteva pranzare. Ecco perché Maria riceve ospitalità molto probabilmente tra qualche parente, perché poi erano talmente pochi lì a Bethlehem, che erano quasi tutti imparentati, come succede ancora oggi tra noi in alcuni paesini. Per cui non hanno trovato posto nella sala da pranzo. Le hanno portati nella sala, che è il luogo più caldo, il luogo anche più pulito e il luogo dove c'era anche più intimità, perché questa donna potesse, questa piccola vergine, potesse mettere al mondo il suo primogenito, quel figlio unico che è figlio di Dio. E fa la cosa che tutte le mamme avrebbero fatto. Lo avvolge in fascia e lo mette nella mangiatoia. Perché la mangiatoia? Perché evidentemente è il luogo più sano, più salobre, è rialzato rispetto al pavimento. Ecco perché lo depone lì. È un luogo anche abbastanza caldo, perché erano fatte così le case di quell'epoca. Lo mette lì perché non c'era posto per loro nel soggiorno. Pensate, siamo in inverno, il luogo più caldo era esattamente la stalla. Gli animali vivevano all'interno della grotta. Ecco qui allora che la verità del Natale, il problema del rifiuto, della cacciata. Noi abbiamo proiettato sul Natale tutte le nostre fantasie. Un po' come il problema dell'asino e del bue che noi troviamo nei presepi. In realtà Luca non ne parla, ma i padri ne hanno parlato e anche la tradizione, perché riportano il testo del famoso profeta Isaia, quando proprio all'inizio ci dice che il Signore si lamenta perché Israele non lo riconosce, si ribella. Invece il bue conosce il suo proprietario e l'asino conosce la mangiatoia del padrone. Quasi a voler dire, vedete quegli animali che la tradizione ha messo nel presepe, ci ricordano che noi uomini recalcitriamo davanti al creatore del mondo, mentre gli animali lo riconoscono. Il bue tra l'altro è un animale che veniva anche immolato nel tempio e nella tradizione dei padri il bue rappresenta Israele, perché era uno degli animali del tempio. L'asino era considerato un animale impuro e quindi rappresenterebbe noi pagani. I pagani, l'asino, i cristiani che vengono dall'ebraismo, il bue. E allora vedete com'è interessante questa scena nella quale noi troviamo la semplicità di un papà e di una mamma che mettono al mondo un figlio. Io credo che anche Giuseppe abbia partecipato e come la stessa presenza dell'angelo che va a chiamare i pastori indichi la presenza di Dio. Oggi per voi vi annuncio una grande gioia. E questa grande gioia è proprio Gesù, perché ci è stato dato un salvatore. Dove è nato? Nella città di Davide, cioè Bethlehem. Lui è il Cristo Signore. Tre grandi parole che veramente ci rimangono. Lui è della stirpe di Davide, è il salvatore. Salvatore non è l'imperatore. Così si chiamavano gli imperatori. I salvatori. In realtà il vero salvatore è Gesù, il Cristo, cioè il Messia, colui che è il Kyrios, il Signore. Ecco perché la scena del Natale si chiude con questo annuncio ai pastori. Ma quali pastori? Certamente duemila anni fa erano i pastori sulla spienata di Bethlehem. Ma quando Luca scrive il Vangelo nell'80 si rivolge ai pastori della Chiesa. Sono i pastori della Chiesa che devono andare a Gesù, non portando i doni. Quelli sono i pastori del presepe del Settecento napoletano. I pastori del Vangelo non portano nulla a Gesù, se non la propria vita. Vanno, contemplano che in quel bambino c'è il Figlio di Dio. Lui è venuto per salvarci tutti. Facciamo verità sul Natale e ritorniamo a leggere i testi che sono meravigliosi, a studiarli, a meditarli e soprattutto a ringraziare Dio per questa povertà in cui il Figlio di Dio è voluto nascere. In mezzo ai poveri, lui che ha sempre amato i poveri e che ha voluto una comunità di poveri. Buon Natale, buona Pasqua, perché è questo il messaggio che oggi il Signore ci consegna. Che meraviglia, Padre Ernesto. Questo momento storico, questo del Natale che viviamo ogni anno, è per noi il momento in cui appare la grazia di Dio. Noi ringraziamo te. Nella semplicità più assoluta, perché il Natale è questo. Il Natale è semplicità, valorizzare la vita di ogni giorno, le persone, gli affetti, le cose che dobbiamo fare. Natale è sapere che Dio nel quotidiano ci è sempre vicino. Auguriamoci allora di dimorare in questa pace che il Signore viene a portarci. Grazie, Padre Ernesto, a domenica prossima. Grazie a voi, Buon Natale e Shalom. Ancora Buon Natale e Shalom.